Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, eccomi ritornata in questo nuovo video. Io sono Angela e oggi parleremo nuovamente del grande fratello VIP. E sì, perché al centro dell'attenzione c'è nuovamente la showgirl Elisabetta Gregoraci. Infatti nel pomeriggio di ieri Giulia Salemi, Dayan, Rosalinda e Selvaggia Roma sono tornate nuovamente sull'atteggiamento che Elisabetta avrebbe avuto nella puntata del lunedì, in occasione proprio del serale del grande fratello VIP. Ognuno di loro infatti esprime un'opinione. Dayan Mello e Rosalinda ammettono che loro hanno espresso solo un pensiero su Elisabetta, cosa che nessun altro nella casa avrebbe mai fatto perché hanno paura, tra virgolette, di lei. Invece Giulia Salemi ammette che l'ex tibreatore dovrebbe farsi un esame di coscienza. E durante questa conversazione tra loro quattro donne interviene immediatamente Selvaggia Roma che senza peli sulla lingua ha lanciato l'ennesima stoccata a Elisabetta Gregoraci. Infatti Selvaggia ha ammesso di essere abbastanza infastidita dall'atteggiamento di Elisabetta. Ha detta proprio di lei e l'ex tibreatore tutte le volte che si rapporterebbe con il prossimo direbbe spesso perché io sono. Un'affermazione che a Selvaggia dà veramente fastidio e infatti lei ribadisce Tu chi sei? Tu non sei nessuno. Hai solo una cosa più di me. Il mantenimento. Selvaggia poi rincara la dose e dice io fuori di lì nemmeno vorrei la sua amicizia. Non me ne frega niente. Non sono una persona che fuori gli lecca il. E ribadisce nuovamente sai che cosa ha più di me Elisabetta? Il mantenimento, i soldi e un lavoro in tv. Per l'ennesima volta Selvaggia ha anche criticato il comportamento che Elisabetta ha avuto nei confronti di Pierpaolo Petrilli definendola una persona falsa. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Io vi auguro un buon giovedì da Angela da Tutto al Web.